E' un'arte, guardare senza farsi vedere, ancor più, guardare senza farsi vedere da chi ti sta guardando, cercando di non farsi vedere. Un incontro di Fioretto, al silenziatore, su pedane distanti. Nessun altro si accorge che c'è una sfida, un punteggio. Non vado a stare da papà, ma davvero il migliore del mondo il mamma. Tu non l'hai mai capito? O forse eravate troppo impegnati a discutere per capirvi? Incredibile, incredibile papà. Pensa che per entrare nei loro villaggi, devi per forza farti accompagnare da un Ranger armato e puoi andare soltanto di mattina. Non ho ancora capito se vuoi rimanere in quella casa oppure no. In questo caso dovresti pensare di affittarlo, non credi? Era con suo figlio? Al telefono in bagno? Lei era con suo figlio? L'ultimo numero andrebbe sempre cancellato. L'ultimo numero e il nostro corso è un'altra cosa. Grazie a tutti.